Un saluto a tutti i videoascoltatori d'Italia Medievale, oggi presentiamo un bellissimo saggio appena pubblicato da Carocci dal titolo Ammalarsi e curarsi nel Medioevo, una storia sociale di Tommaso Duranti, che abbiamo il piacere di avere il nostro gradito ospite, al quale come mia abitudine io lascio subito la parola perché ci parli di questo bel saggio. Prego professore, a lei. Grazie innanzitutto, è il piacere mio di essere qua in Italia Medievale, quindi vi ringrazio dell'invito, sono molto contento. Questo libro che appunto è appena uscito e fresco di stampa nasce in qualche modo da un'esigenza condivisa anche, devo dire, con l'editore, che quindi mi fa piacere sottolineare, cioè cercare di individuare il posto del malato all'interno della società medievale, dunque con un taglio, come Daice anche introduce insomma il sottotitolo, con un taglio, se vogliamo, prevalentemente sociale e anche però di storia culturale. In che senso? Nel senso che ho evitato di entrare, se non incidentalmente, nelle maglie delle pratiche terapeutiche vere e proprie, quindi non c'è un approfondimento sulla farmacopea, precisamente sulla farmacopea, sui modi di intervento sul corpo del malato, ma uno sguardo appunto che tenda a considerare se e quale spazio queste persone che si ammalavano, e anche qui bisognerebbe poi capire che cosa significasse per la società medievale essere malati, quale spazio appunto avessero all'interno del discorso culturale in senso ampio e della società, delle diverse forme di società che si sono susseguite nel corso del lungo millennio medievale. Per questo motivo io ho deciso di partire proprio con una introduzione, un primo capitolo che se vogliamo sono un po' più teorici, ma che mi sembravano necessari per porre alcuni paletti e linee guida nell'indagine di questo tema, che è un tema che connota poi tutte le società umane nello spazio e nel tempo, perché la malattia nelle sue varie forme, nelle sue varie declinazioni caratterizza, ahimè, la condizione di essere vivente e dunque evidentemente anche nello spazio medievale aveva un ruolo. Quindi innanzitutto cercare di definire in un qualche modo che cosa fosse la malattia nel Medioevo e di conseguenza, questo potrebbe sembrare strano, ma anche cercare di definire il malato, cioè chi venisse considerato, chi si considerasse malato all'interno di quelle società. In realtà sono temi che riguardano anche la contemporaneità, su cui diverse discipline, l'antropologia, la filosofia, naturalmente le scienze mediche, ma anche il diritto continuano a interrogarsi, perché anche aderendo alla scienza contemporanea, quindi alla norma biomedica, che è prevalente, non è unica nel nostro contesto, è difficile dare una precisa connotazione e definizione di malattia e dunque anche di salute. Questo lo si ritrova anche nel Medioevo, naturalmente secondo criteri, esigenze e sensibilità molto diverse da quelle contemporanee e questo va sempre tenuto presente quando si analizza e si prende in considerazione una società differente, che sia nello spazio o che sia nel tempo. I discorsi, per così dire, dispositivi che si sono interrogati sulla malattia e dunque sulla persona malata furono prevalentemente due durante il millennio medievale, e cioè quello discendente dal cristianesimo, quindi l'ambito strettamente religioso che promana direttamente dalla patristica in realtà, che però evolve nel corso dei secoli medievali, è invece quello che possiamo fare ricadere sotto l'etichetta della medicina adotta, dunque della continuazione della tradizione galenica che passa anche al Medioevo e che conosce appunto elaborazioni differenti. Questo è un tema, se vogliamo, che ha conosciuto insomma diverse interpretazioni in una ipotetica opposizione fra il cristianesimo medievale, fra la chiesa e la medicina in quanto portatrice di un sapere laico dedicata al corpo. In realtà le cose sono più complesse, non sono così schematiche. Il rapporto fra i due discorsi, fra i due pensieri non è coincidente naturalmente, perché le finalità, le motivazioni di partenza, le finalità sono completamente diverse in qualche modo, ma ci sono anche molti elementi di contatto e anzi tendenzialmente nel progresso dei secoli medievali si assiste a un incontro di queste due tradizioni, che non sarà mai completo, non sarà mai una fusione perfetta, ma perché appunto si tratta di due ambiti differenti. Oltre a questi due discorsi dotti in un qualche modo, c'è però anche tutto l'apporto delle, diciamo, delle tradizioni non disciplinari. È difficoltoso, cerco di spiegarlo, indicarlo come sensibilità popolare, perché non è legata semplicemente a un ceto sociale o legata al non essere colti e non essere letterati. Sono tutte forme di interpretazione della malattia, della salute e quindi del posto del malato che in realtà si intersecano, si intrecciano e li si ritrovano con elementi che hanno pesi diversi a seconda dei momenti e degli individui, ma li si ritrovano sia nel clero, sia nei medici universitari quando nel corso del 200 si fisseranno gli studi di medicina in Europa, sia nei contesti individuali, quindi sociali, laddove la medicina non è un tema di natura appunto disciplinare o professionale. E quello che secondo me emerge da questo intreccio, da questa complessità, è l'aspetto appunto sociale della malattia. L'inglese è noto, distingue il termine, quello che noi traduciamo con malattia in tre termini differenti. In questo caso si tratta della sickness, cioè di quale tipo di forma appunto di malattia viene interpretata come tale socialmente per le conseguenze che ha sull'aspetto, sulla vita della società. in questo contesto è fondamentale la riflessione o comunque l'utilizzo del concetto di infirmitas e noi fatichiamo in realtà a tradurre con un'unica parola perché la traduzione letterale è infermità, ma infermità in italiano non restituisce le valenze complesse e molto profonde che questo termine aveva invece nel latino e in particolare nel latino medievale. E c'è un parallelo molto forte con con il tema e lo stesso termine della povertà. Questi due elementi si sembrano quasi in certi momenti sovrapporsi e tanto ad aver fatto a lungo pensare anche alla storiografia, faccio un esempio perché è uno dei temi che poi tratto, che gli ospedali medievali fossero il luogo dedicato ai poveri, ma nel senso prettamente o solo economico, quando in realtà, ormai su questo la storiografia ha fatto grandi passi avanti, si vede come la complessità del concetto di povertà e di infirmitas ci deve far ritenere che fossero luoghi di cura a tutto tondo. Questo è un aspetto a cui io tengo molto, che credo sia, non è un'idea mia, insomma, condivisa con la storiografia più recente, ma che sia davvero importante. Cioè l'idea che non si debba fare, mettere in campo un contrasto netto fra la cura e l'assistenza. Anche qui l'inglese diciamo è più facile, lo rende più facilmente, ma le varie forme di assistenza rientrano nell'ottica degli uomini del Medioevo sia dal punto di vista cristiano, sia però dal punto di vista anche medico e quindi poi delle forme di reazione da parte delle società in termini di complessità dell'individuo. Quindi tutti gli aspetti che possono rendere un individuo infermo nel senso di non stabile, non radicato, che è in un momento, anche semplicemente un momento di debolezza fisica, sociale, economica, di vari tipi, a volte anche solo geografica, no? L'essere lontani, l'ospedale che ospita il viandante. Tutti gli aspetti che rientrano nel prendersi cura dell'infermo vanno considerati nell'ottica che era propria del tempo e quindi di una cura vera e propria a tutti gli effetti che rientra nella strategia di risposta alla malattia. Allora da questo punto di vista io ho cercato di tracciare un profilo che prenda in considerazione aspetti che dal punto di vista storiografico sono a volte talmente specialistici da non incontrarsi sempre. Ecco, quindi la dottrina, ad esempio, medica, la riflessione teologica, poi dei predicatori sulla natura di infirmus, anche spirituale dell'essere umano, e poi tutte le forme appunto di strategia. Dunque le varie figure che intervenivano o potevano intervenire nel fornire cura e assistenza, in questo senso però globale, rispetto al malato e dunque, appunto lo accennavo prima, anche i luoghi della cura, che non sono i luoghi della cura diciamo sanitaria come le potremmo intendere oggi, che comprendono anche la cura della malattia fisica, ma appunto anche la cura della malattia fisica. Dunque in una visione in genere diciamo olistica, in cui tutti gli aspetti dell'individuo, della persona, sono presi in considerazione. Ora in questo appunto lo accennavo. Il contrasto fra la dottrina cristiana e la dottrina fisica, medica, dotta, è data in realtà da una gerarchizzazione, da un'importanza che naturalmente il cristianesimo e la dottrina cristiana dà principalmente alla salute dell'anima, alla salute spirituale, ma che non implica la negazione dell'importanza della salute del corpo e poi appunto nel processo di tempo in realtà rende anche la salute del corpo funzionale alla salute dell'anima. È evidente che in una concezione profondamente cristianizzata, qual è quella della società della società cristiana del medioevo latino, poi c'erano anche le minoranze, ma insomma il punto principale è la salvezza dell'anima, perché il bene che si ottiene è incommensurabile rispetto alla guarigione fisica, ma questo non comporta la negazione dell'importanza della cura anche dei malanni, diciamo così, dei malanni del corpo. Quindi è un intreccio di pensieri che non sono omogenei, ma che in realtà vanno verso una certa uniformità in un qualche modo, proprio perché si intrecciano, sono sempre compresenti e dunque non li possiamo separare come camera tenuta a stagna, come se i chierici fossero soltanto chierici chiusi nella loro bolla, i medici fossero solo medici chiusi nella loro bolla e così via. Questo mi sembra lo si veda in modo abbastanza evidente pur nell'estrema complessità nel ricorso ai terapeuti. Io cerco di rendere le cose, forse mostrare diciamo la complessità, la suddivisione classica, i sacerdote, il medico, il chirurgo, il barbiere, il mago, la vecchia donna, sono ovviamente, nasce dalla presenza nelle fonti di queste persone, di questi termini, ma la tendenza, il rischio, che è comprensibile, perché il tentativo di comprendere è di declinarli in termini contemporanei e questo ci fa perdere di vista che cosa? Che in realtà queste erano tutte agenzie terapeutiche che il malato, almeno teoricamente, perché poi bisogna andare a vedere nelle possibilità del singolo individuo, chiaramente, non stiamo dipingendo una fase diciamo paradisiaca della cura, ma almeno teoricamente, potevano essere tutti mobilitati e molto spesso non vengono percepiti come elementi in contrasto. Non è che ci si rivolge al medico perché non si crede alla cura miracolosa del santo o ci si rivolge al santo perché non si crede all'incantesimo della vecchia. Sono tutti elementi che fanno parte, sono frecce al proprio arco, che possono essere mobilitate dal punto di vista del malato o della sua famiglia, del suo entourage, evidentemente, di chi ha a che fare comunque con il malato. Quindi anche queste categorie, che poi io stesso, insomma, dobbiamo in un qualche modo circoscrivere, altrimenti non si capisce poi più niente, ma ecco, vanno interpretate come morbide, come porose, non come alternative, anche perché le terminologie, per così dire, professionali, dei mestieri, insomma, per molto tempo non hanno la rigidità appunto che noi diamo invece a questo tipo di categoria. Insomma, un personaggio definito medicus in una fonte non ci illumina questo termine da solo su che quale tipo di terapia mettesse in pratica, quale percorso di apprendimento avesse fatto, quale grado di status sociale avesse, sono termini che risultano abbastanza vaghi e quindi ci confermano in realtà in qualche modo questa pluralità, questa anche non organizzazione, se vogliamo, in senso rigido, delle forme di agenzia terapeutica. Per questo ho fatto rientrare appunto nei terapeuti anche i santi. Il miracolo è un tema che sta tornando fortunatamente in modo molto approfondito nella storiografia, anche sul Medioevo. Insomma, il ruolo del taumaturgo per eccellenza, che è il santo, è fondamentale, ed è fondamentale perché questo è un altro, diciamo, elemento secondo me importante. Noi non dobbiamo, se facciamo una storia del Medioevo, se si fa una storia della singola malattia come elemento naturale, è un altro discorso. Non dobbiamo rincorrere, provare a testimoniare l'eventuale efficacia terapeutica. Questo non solo per il miracolo, in realtà fatichiamo a farlo anche con le cure, diciamo, strettamente fisiche, ma quello che è necessario per provare a comprendere, almeno in parte, questo universo che è un universo, ricordiamoci, di dolore, perché insomma la malattia scompagina la società e l'individuo. Insomma, è il tema dell'aspettativa che il malato ha, ed è un qualcosa evidentemente che dipende dalla cultura di una società. Quindi la risposta che il santo poteva dare con il miracolo, sì, poteva essere anche la guarigione dalla ferita o dal malessere strettamente fisico, ma era molto più ampio ed era questo che ci si aspettava. E quindi va ricompreso in quell'ottica che qui facevo cenno prima, di cura globale, va ricompreso assolutamente all'interno delle strategie di cura, perché si andava al santuario, poi tutta la procedura che porta ai voti e quindi all'andare al santuario dopo l'eventuale guarigione, con un'ottica di, sì, di guarigione fisica, ma non solo, perché la risposta che ci si aspettava non era solo quella. E dunque cambiano, diciamo, i criteri di valutazione. Io, così, nell'introduzione accenno all'idea che non si debba valutare che la ricerca dello storico, poi altre discipline lo possono fare naturalmente. Non si debba valutare il mondo, per così dire, della cura della medicina antica secondo i criteri attuali. Non è solo una gara, diciamo, di risultati, perché se applichiamo i criteri odierni ci sfugge completamente la comprensione di un ambito che fa parte comunque della vita, sostanzialmente di ognuno, almeno come rischio. Ecco, quindi... È un argomento complesso, immagino, perché lo si può seguire attraverso strade anche diverse, per esempio l'evoluzione dei modi in cui si effettua la cura del malato, quindi la nascita degli ospedali, la costruzione di strutture preposte a prendersi cura dei malati. Si vede che c'è anche tutto uno sviluppo nel passare dei secoli da questo punto di vista, che il mondo laico irrompe in quello che è un mondo dove invece i poteri statuali non si occupavano delle cure dei malati, per cui è veramente complicato riuscire a tracciare una storia sociale della malattia e della cura. Io penso che questo saggio possa aiutare nel tracciare un percorso, quanto meno. Sì, c'è un elemento adesso rispetto a quest'ultima cosa, appunto tornando agli ospedali, che effettivamente è un tema, insomma, anche classico della storiografia sul Medioevo. Un elemento, secondo me, anche qui appunto è la storiografia più recente che lo sta mettendo sempre di più in luce, è estremamente interessante, che ci aiuta forse in un modo più immediato a capire poi la complessità di tutti gli elementi, è intanto che il luogo esterno alla casa e quindi questo è un fattore che va tenuto sempre presente in realtà non solo per il Medioevo, anche per molto tempo dopo e per molto tempo prima. Cioè l'ambito della cura è essenzialmente domestico. Perché è quello lo spazio in cui si interviene fisicamente? E questo ci pone davanti a una ricchezza di stimoli e di aperture, perché naturalmente nell'ambito domestico agiscono attori anche non socialmente diciamo professionali o professionisti, o comunque riconosciuti come tali, intervengono innanzitutto le madri, il ruolo della madre nella cura. E anche questo è un aspetto interessante. La cura della madre non è solo la madre che dà l'impiastro di erbe al figlio, al marito, a chi sia in casa, in caso di una malattia. Ma la cura è anche nella gestione della casa. Qui c'è un bel parallelo secondo me fra lo spazio domestico, lo spazio ad esempio urbano, quindi si va poi in realtà anche sull'ambito politico. Tutte le norme che noi indicheremmo come igieniche, dando a questo termine una connotazione di grado inferiore in un qualche modo rispetto a quello della medicina. Ma ricordiamoci che le norme igieniche sono state quelle che hanno nel corso dell'Ottocento permesso alla disciplina medica la medicina poi di intervenire. Allora gli elementi di igiene che noi consideriamo di pulizia, di igiene, di equilibrio fra le temperature, i cibi, il riposo e la veglia e così via, richiamano le famose sei res non naturales, cioè quei sei elementi che secondo Galeno servivano a mantenere la salute. Tutti gli aspetti di gestione della casa, la pulizia della casa, la reazione della casa, il pensare alla dieta domestica, l'alimentazione domestica, sono tutti elementi che rientrano nel prendersi cura in senso soprattutto preventivo, ma questo è uno dei dati fondamentali anche della scienza medica del tempo, della dottrina medica, che è una medicina che si fa, si vuole fare preventiva, che punta innanzitutto alla conservazione della salute e poi nel caso all'intervento sulla malattia. Questi aspetti in larga parte, non del tutto, diciamo, sono più complessi da ricostruire perché lo sguardo dello storico nelle case entra meno facilmente per un'ovvia questione di produzione documentaria. Molti studiose, molte studiose stanno percorrendo questi aspetti proprio nell'entrare, nel cercare di entrare all'interno della vita domestica e lì si vede appunto un pullulare in un qualche modo di figure che possono... Allora la stessa cosa la vediamo in realtà, dicevo, nell'ambito urbano. Tutte quelle norme, facciamo il caso dei comuni, siamo in Italia, quindi la legislazione comunale insomma la conosciamo per tradizione. Non è ovviamente l'unico contesto quello comunale, ma insomma tutte quelle norme che categorizziamo come norme igieniche legate al decoro urbano, è vero, sono legate anche al decoro urbano. Il senso del decoro è un elemento importantissimo in quella forma di normativa, ma sono anche legate al mantenimento della salute, alla prevenzione del rischio. Alcuni statuti lo dicono esplicitamente, per conservare la sanità dei cittadini, si puliscono le strade, si cercano di togliere i... o quantomeno si ordina di fare questo, quindi di mantenere lo spazio urbano come se fosse uno spazio domestico, pulito, areato, esposto laddove possibile ai giusti venti. Sono tutti elementi che discendono in qualche modo, semplificati probabilmente anche, non sempre poi realizzati, ma discendono dai principi della dottrina medica appunto di derivazione, chiamiamola greca per intenderci, e quindi sono un modo di intervenire a livello sanitario. L'ospedale in questo, eravamo partiti da lì, si pone come un luogo differente, perché è vero, nasce, non solo è vero, ma questo è importantissimo, nasce come elemento di strategia, come risposta ai bisogni delle fasce più deboli in quel momento, quindi dei poveri economici, perché noi pensiamo subito alla povertà economica, ma anche di tutti appunto paupertas è quel termine che comprende diverse declinazioni, ormai questo lo sappiamo, il povero è debole da un punto di vista economico, da un punto di vista sociale, da un punto di vista, dicevo, geografico, no? Lo straniero, il viandante, sono infirmi, no? Il viandante in questo secondo me lo dimostra benissimo, non è stabile, si muove per sua definizione e quindi non ha, ad esempio, la rete sociale che conosce, pronta a parare il colpo, per così dire. Allora, queste strutture nascono e creano in un qualche modo, insomma, Brown ci ha insegnato Peter Brown anche questo, creano la categoria dei poveri, però in quell'ottica complessiva che dicevo prima, non sono specializzati, non perché, siamo sul piano teorico anche qui ovviamente, ma non perché non fossero capaci di specializzarsi, ma perché questo non era nell'orizzonte concettuale e mentale, l'idea era prendersi cura di chi avesse bisogno, quindi complessivamente. È noto che nell'ultimo secolo, insomma, del Medioevo scolastico, quindi diciamo nel tardo Medioevo e soprattutto nel Quattrocento, le cose poi evolvono, soprattutto negli spazi urbani, non in modo, diciamo, uniforme, ma con la tendenza a, in alcuni casi, alla specializzazione anche, e anche con una specializzazione, chiamiamola di tipo sanitario. Però su questo bisogna, secondo me, insistere. Non possiamo giudicare la valenza degli ospedali medievali dalla presenza o meno di quelli che noi consideriamo terapeuti, cioè medici e chirurghi. Innanzitutto perché medico e chirurgo poteva essere chiunque praticasse quelle operazioni, non chi avesse un titolo di studio o una licenza professionale, che nel corso del basso Medioevo inizia a presentarsi, ma che non è mai un monopolio, diciamo, né delle università, né delle forme politiche, non c'è una categorizzazione professionale rigida. E poi perché, appunto, la cura dipende da vari aspetti. Sì, le erbe e i medicinali composti, ma appunto la dieta, il riposo, un ambiente tranquillo, banalmente anche dove passare la notte, perché, insomma, sono tutti elementi che vanno presi in considerazione e un altro aspetto fondamentale, che questo deve essere messo in luce per una società appunto cristiana, come è quella medievale, profondamente cristianizzata, al di là del credo dei singoli individui, anche gli aspetti della cura spirituale. Cioè, queste strutture, anche quando vengono create o gestite da laici, o da poteri laici, o da individui laici, si ispirano alle strutture religiose. Perché quello è l'orizzonte mentale di quella società. E quindi forniscono anche quegli aspetti che noi definiamo di cura spirituale. Evidentemente, declinati in termini religiosi, quindi declinati in termini cristiani, ma che non sono poi così lontani da quegli aspetti di serenità. In certi casi addirittura, insomma, sembra di leggere degli inviti quasi a delle forme di meditazione, che oggi tornano prepotentemente, non solo nelle discipline New Age, ma nella stessa neuroscienza. Quindi sono tutti elementi che devono essere presi in considerazione in uno spazio che poi dobbiamo, insomma, essere onesti. Casi eccezionali, sono i casi eccezionali. Probabilmente molti di questi spazi effettivamente erano strutture che offrivano quello che potevano, il meno indispensabile, però erano una strategia di risposta. Ed erano una strategia particolarmente diffusa, ecco, che dà il senso del tentativo di assistere e di curare a tutto tondo anche nella malattia. Beh, io direi che il modo migliore per entrare in questo tema così complicato sia quello di adarsi a comprare il suo saggio, per cui ricordo il titolo che è Ammalarsi e curarsi nel Medioevo. Il sottotitolo è molto importante perché è una storia sociale di Tommaso Duranti, che abbiamo avuto il grande piacere di avere il nostro gradito ospite, che io ringrazio tantissimo. Grazie a voi. E a tutti voi ricordo di continuare a seguirci sul nostro canale YouTube, dove troverete tutte le videopresentazioni che abbiamo realizzato fino ad ora. Grazie ancora e a presto. Grazie, arrivederci, arrivederci. Grazie a tutti.